Ci proviamo un'altra pallina, dai Toto dammi questa pallina, che una ce l'avemmo rotta 5 minuti, ci hanno regalato i racchettoni all'Eurospin, la spesa intelligente, ma la pallina è ignorante proprio, guarda ti è spacciata, Toto come ha fatto mezzo mozzichetto l'ha distrutta, andiamo Toto vieni, vieni qua dammi la pallina dai, dammi la pallina dai non è facile giocare al Totino eh, dai come l'ho dato a me, dai meno male dai, dai, eccolo ecco senti Totino, vai Totino prendi la pallina, Totino al volo, Totino vieni qua dai, dammi la pallina, dammi la pallina dai, dai Totino, sono 4 ore che stiamo a giocare così eh, facciamo anche pubblicità all'Eurospin, la spesa intelligente, ci hanno regalato i racchettoni ieri con 10 euro di spesa giù a Roma, anche i racchettoni, Toto ce la porti la pallina, ce la fai giocare un po' pure a noi, dai, 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 vieni, dai, dai, dammi qua, ah Totino, eccolo dai, siamo pronti, siamo pronti, Totino, vieni qua, Totino, Totino, vai, 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 ma guarda sei proprio un barboncino ladro, una volta era solo la cazza ladro, invece questo è il barboncino ladro, dai, Doto, dai, 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 dammi, dammi qua, dai, dammi qua, dai, dammi qua, dai, dammi la pallina, dai, oddio, ma se può mai fa sempre sta storia, tutte le volte sta storia, se ruba la pallina si può più giocare, dammi la pallina se vuoi giocare, no, Totino, ho tentato una racchettata, vieni qua, vieni qua, dammi la pallina, dai, 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 io voglio far vedere proprio, vieni qua, Totino, vieni, vieni, dai, vieni qua, dammi questa pallina, dai, 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 no, ci deve far soffrire, no, che lunghezza, da, dammi questa pallina, poi mi fa 25 minuti di video con la pallina, vieni qua, niente, eh, ragà, questo è, basta, basta, siamo a far giocare, sì, sì, lo piccilitto, sì, guarda, guarda come sta giocando il piccilitto, ho capito che è il comando, infatti si è presa la pallina e basta, vabbè, niente, comunque abbiamo fatto giocare un pochettino Totino a casa del Papi, noi non abbiamo giocato per niente, guarda quando sta, si prende la pallina, si ruba la pallina e tutto questo è il gioco di questo pomeriggio.